Io sono gatto pardiano, perché la comunicazione non cambia mai. Da millenni l'uomo parla attraverso la parola, e la parola è ciò che noi trasferiamo. Noi non vendiamo prodotti, non vendiamo nulla, noi vendiamo parole, e lo facciamo perché ci crediamo nelle parole. La stessa Evangelo dice che tutto a principio dà la parola, il verbo era presso Dio, per cui cos'altro aggiungere se non avere rispetto per la parola. Grazie a tutti.